Cagliari Juve il giorno dopo il giorno dopo Cagliari Juve 2 a 0 in realtà per la prima volta in assoluto mi ritrovo a fare delle pagelle e a dirvi saranno corte perché ci sarà veramente poco da dire e per due motivi in realtà questo è il soltanto il primo video della giornata ve lo dico subito prima di ritrovarmi qui sotto nei commenti sommerso Luca hai visto uscita la maglia di Juve? Sì ovviamente l'ho visto l'ho messo anche su Instagram e nel pomeriggio uscirà anche un altro video proprio inerente alla mia analisi sulla maglia della Juve tra l'altro il video di ieri sera su Cagliari Juve non è andato benissimo vuoi perché a molti non mi interessava per cui vi chiedo un supporto un mi piace a questo video per cercare un po' di discutere insieme più che le pagelle di Cagliari Juve sarà anche un parlare di Juventus Lione dato che comunque la data si avvicina mancano soltanto otto giorni come detto nel video di ieri sera e quindi andiamo a spendere due parole prima una premessa nel video di ieri lo dicevo chiaro e tondo non mi interessa il risultato di Cagliari Juve ovviamente dispiace sempre perdere una partita io tutte le volte che la Juve perde sono deluso sebbene la partita ieri fosse completamente ininfluente ai fini del risultato addirittura l'ho vista non dovevo vederla quella con la Roma non la vedrò perché è sabato sera di un campionato già chiuso preferisco passarlo insieme alla mia ragazza però mi sono trovato qualcuno che mi diceva va bene abbiamo perso chi se ne frega dovresti fregarti nel fatto che abbiamo perso sì certo sono d'accordo ma secondo me perdere è sempre un dispiacere a me da sempre un po' fastidio perdere poi ovvio che non l'ho presa come le altre volte ero molto sereno molto tranquillo era una partita che si poteva vincere oppure no a me perdere però da sempre quella sensazione un po' di già pareggiare non è proprio fantastico ma perdere è una cosa che mi luogora un po' dentro poi ripeto sono tranquillissimo perché la situazione ci poteva dare la possibilità di pareggiarla di perderla di vincere quella partita ma un po' stizzito lo sono sempre quando vive perde chiusa questa parentesi buffon 5 non mi è piaciuto tantissimo tra l'altro non capisco bene se sul secondo gol cioè quello del ciolito simone potesse fare di più o meno se ha visto partire il pallone o no certo che forse una paretina in più su quella posizione poteva fare invece un ottimo apparato a sussimeno nel secondo tempo ma nel complesso una gara brutta da parte di tutti infatti saranno veramente molto bassi i voti e a blocco difensivo devo quasi dare tutto 5 quindi 5 a Gigi dispiace dare 5 a Gigi lo sappiamo come 5 a Bonucci e Rugani il primo gol è incredibile perché non si capisce come una palla possa passare due volte all'interno dell'area della Juventus senza che nessuno intervenga forse un po' a ritardo quadrado forse un po' a ritardo Rugani per non saperneggere e scrivere do 5 e due centrali di difesa tra l'altro Bonucci non impeccabile viene saltato in occasione del gol di simone alexandre e quadrado hanno spinto poco hanno dato poco aiuto là davanti hanno fatto sicuramente gare migliori a loro da 5 e mezzo quindi 5 e due centrali di 5 e mezzo due terzini e 5 uffon quindi la parte centrale di difensiva della Juve è totalmente insufficiente per quanto mi riguarda e anche qua dispiace perché andare a prendere altri due gol e arrivare a quota 40 anche qua come ho detto non me ne frega niente no ma è un pochino di prendere 40 gol in Serie A più ancora tutta una partita da giocare un po' dispiace Pjanic Pjanic e Bentancur secondo me sono da 5 e mezzo non hanno fatto una gara sufficiente ho letto tantissimi dare 6 e mezzo a Bentancur migliore in campo e non sono completamente d'accordo tra l'altro le spiegazioni si basavano sul fatto che Bentancur nel primo tempo avesse tirato in porta con la paratona di Cragno certo avesse fatto gol il voto sarebbe stato più positivo rispetto a questo ma io vedo un Bentancur molto più spento rispetto al solito rispetto a gran parte del campionato e quindi forse un po' voglio punirlo con insufficienza in una serata in cui nessuno ha fatto chissà che cosa poi è anche una gara nella quale la Juventus ha tirato spesso volentieri in porta una decina di tiri verso lo specchio della porta 30 tiri in totale e roba del genere una gara che magari con un paio di gol sarebbe stata tutta diversa avessimo fatto 3 a 2 che ne so avremmo esaltato il fatto che riusciamo a fare tanti gol ma la fase di pensiva non è di qualità ieri sera ho visto una partita nella quale abbiamo tenuto tanto palla io addirittura pensavo di aver tenuto meno di loro perché il nostro possesso palla è stato abbastanza sterile si la tenevamo noi ma non facevamo chissà che cosa se non tirare da fuori area ed è una costante che ci sta accompagnando dal post lockdown in poi il fatto di tirare per forza da fuori area loro hanno fatto meno possesso palla ma più efficace infatti hanno anche realizzato due gol il problema è proprio qua secondo me tante volte noi facciamo tanto possesso sterile che potremmo evitare cercando magari una verticalizzazione in più piuttosto che sempre il passaggio orizzontale che ti permette di tenere così tanto il pallone ma mai di andare veramente ad attaccare difesa avversaria piani c'è un altro era diffidato salterà la gara con la roma quindi rimarrà la gara con il lione come ultima gara la juve se dovesse andar bene in ritorno con il lione ce ne saranno altre se no a piani ci rimarranno soltanto 90 minuti di esposizione con la nostra squadra muratore invece voglio dare 6 non tanto per la prestazione in sé quanto più per il fatto che dal primo minuto con la juventus in serie a in un centrocampo che è stato il nostro punto debole al pari della fase difensiva quest'anno non me la sento ripunirlo voglio dargli un'iniezione di fiducia quindi gli do 6 bernardeschi male male però anche qua non era la gara in cui volevo il riscatto da parte di bernardeschi anche perché secondo me già tardi un riscatto di questa stagione non potrà arrivare che rimarrà o meno all'interno della rosa io non ve lo so dire credo di sì sono abbastanza convinto di sì a meno che non venga inserito davvero nello scambio con milic però quest'anno una brutta stagione da parte di bernardeschi che ancora ci ritroviamo qua a dire qual è il suo ruolo ha fatto meglio davvero lì esterno di destra magari a tutta fascia però ci sono delle partite come quella di ieri sera in cui devi dare cinque perché veramente zero impatto l'unica cosa veramente che ricorre bernardeschi è quel tiraccio bruttissimo di sinistro dove tra l'altro il numero 33 dedicato a gesù alla fine fa un commento tecnico tattico molto molto preciso sul papà del messia ecco gli dice che lo paragona a una figura canina una roba del genere poi va bene forse in quel contesto lì bernardeschi si è un po' lasciato andare perché veramente ha fatto un tiraccio cinque guay ronaldo anche loro cinque perché veramente impatto zero l'unico schema che aveva ieri sera era palla ronaldo speriamo che faccia gol e ci siamo intestarditi tanto per questa cosa invece guay non ha veramente avuto possibilità non ha avuto palloni giocabili un unico tiro mi viene in mente quello in acrobazia che è il più complicato che potesse fare zero palloni giocabili per guay in tantissimi per ronaldo che però non trova la via del gol quindi una partita un po così maledetta è entrato matutti gli diamo sei perché è entrato ha messo un po di ordine ha fatto un po di corsa un po di spinta un po di pressing niente di incredibile ma l'insufficienza sarebbe eccessiva invece a peter se oliveri non voglio dare il voto perché hanno giocato veramente poco tempo voglio dare il voto a zanimacchia che è un po il titolo del video zanimacchia migliore in campo perché effettivamente è stato così al di là del fatto che al 95esimo ha provato il gol della domenica il suo primo gol in serie a poteva essere qualcosa di incredibile addirittura con la maglia della juve però zanimacchia ha fatto tanto e ha fatto bene ha fatto vedere di avere gamba di avere tecnica di avere quella quella dote in grado di creare superiorità numerica ed era contento di poter giocare voleva dimostrare infatti mi auguro di vederlo con la roma per capire se è stato soltanto un fuoco di paglia o se questo giocatore ha delle caratteristiche interessanti che possono diventare chiave anche del prossimo anno come eventuale dice kuluseski anche se forse è eccessivo addirittura prolettarci così tanto in là parliamo del fatto che ieri sera ho sottolineato una condizione fisica abbastanza c'è sarri gli diamo 5 direi che abbiamo festeggiato abbiamo festeggiato troppo e forse in fretta e quindi ieri sera non eravamo pronti diciamola così non è giusto sparare su sarri e sui ragazzi in un contesto così particolare però ieri sera ho fatto presente il fatto la condizione fisica precaria e altalenante dato che lione veramente tra poco qualcuno mi ha detto che ho esagerato ma ragazzi tra udine tra la samdoria e tra cagliari abbiamo visto tutto tranne che una grande juve perché è così è evidente ok con la samdoria abbiamo preso gol prima l'abbiamo sbloccato su uno schema cosa che non era mai successa tipo e poi abbiamo avuto la fortuna di fare gol con bernardeschi poi abbiamo sbagliato rigore con ronaldo gli uscì da parato una palla all'interno della porta praticamente già entrata portiere battuto quindi anche qua il risultato poteva essere maggiore con l'udinese abbiamo fatto un primo tempo discreto per quanto mi riguarda poi quella cappellaccia sul fofanà alla fine della partita ieri abbiamo fatto 30 tiri in porta e va bene e ok e vuol dire che parzialmente ci sei ma il ritmo e l'intensità di serie a è completamente differente dal ritmo di intensità d'europa soprattutto se ci aggiungiamo alcuni giocatori come palesemente i guain che sono fuori condizione è il fatto che non abbiamo idea se recupereremo paolo di bala che è un po' il fulcro è il nostro faro là davanti in stessa è complicata poi io ancora una volta ve lo dico ve lo torno a dire sono dell'idea che ci siano delle buone possibilità di passare con il lione e io sono positivo verso quella partita lì secondo me il problema verrà dopo è anche vero che se non passi con il lione è giusto andare a casa ed evitare di confrontarsi con squadre come real madrid o manchester city che per quanti problemi possano avere sono sicuramente più attrezzate o messe meglio di te in questo momento sebbene neanche il real nonostante abbia vinto la liga sembri essere questa squadrona il manchester city probabilmente più forte frontarlo sarebbe più complicato io però sotto il profilo atletico sono un pelino preoccupato sarri l'ha buttata lì come provocazione magari anche una frecciatina conte sotto il profilo del del fatto che stanno giocando così tanto e così spesso con così poco riposo a roma con l'under 23 e avrebbe quasi senso sarebbe intanto una buona soddisfazione per questi ragazzi e un buon palcoscenico per capire se effettivamente c'è qualcuno che si potrà aggregare a tempo pieno alla prima squadra per provargli la febbre capire il livello di questi ragazzi e poi soprattutto perché è giusto riposare dato che si giocherebbe sabato sera quindi a meno di sei giorni praticamente cinque da quella partita praticamente quattro se contiamo che il giorno della partita è quello lì e ci sarà rifinitura però ci siamo siamo arrivati veramente nel momento chiave della stagione e complicarci ronaldo ormai lontanissimo dai mobili inseguire una chimera della scarpa d'oro alla classe vecchia conieri è assolutamente assurdo facciamo giocare da bene ragazzi diamo un turno di riposo a ronaldo alexandro ad elite a bonucci forse anche a dibala che dovrà recuperare a quadrado stesso che l'abbiamo visto un po affannato e facciamo giocare questi ragazzi è giusto che che giochino loro sono giocatori che sono stati aggregati alla prima squadra da tanto tempo sono giocatori che gioca nella juve hanno l'opportunità di dimostrare di poter essere da juve e allora facciamoli giocare sono nostri sono di proprietà e sono ragazzi che probabilmente anche se lo meritano bene questo era un po quello che vi volevo dire ora mi metto a registrare il video sulla maglia della juve uscirà oggi pomeriggio intanto vi chiedo di arrivare almeno a 1500 like per queste pagelle che capisco possono essere un pochino così dato che la partita certo non aveva significato fatemi sapere se anche voi un po vi dà fastidio perdere nonostante non valga niente magari sono matto io nonostante 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 nonostante